Un abito come questo merita una scarpa semplice, raffinata e bellissima. La ciliagina sulla torta. Così, mettetevi in marcia come ho fatto io e... Eccoci in un atelier pieno di meraviglie. Tre materiali, raso, pelle, verniciati, stampati, camoscio, nappa, pitoni, tra tacchi alti e tacchi bassi, larghi e sottili, applicazioni di svaroschi sulla tomaia o sul tacco. E ancora, incisione al laser di nome, data o quello che volete, la scelta della fibbia in oro, argento o cristalli. Insomma, una personalizzazione completa ed esclusiva, data da tanti piccoli, preziosi accorgimenti e volendo persino creare una scarpa su disegno, assolutamente unica. Ed ecco realizzato un sogno!